Francesca Lauro, uno dei volontari di Procida Capitale, Procidana, lei stessa ti occupi di fotografia, quanto è importante riuscire a trovare lo scatto giusto? Allora, sicuramente la fotografia è la copertina di tutti questi eventi che stanno succedendo a Procida. Da un lato abbiamo la fotografia come attrazione per i visitatori e per il Procidano stesso che comunque viene coinvolto quindi in tutti questi eventi e poi come archivio storico perché queste foto quindi rimarranno nella storia e sarà tutto diciamo catalogato, registrato e si potrà vedere negli anni a venire. Da Procidana, che effetto ti fa vedere, aprire per esempio un sito internet di una testata nazionale e in questo periodo vedere anche le foto della tua isola, della tua piccola isola, come tutte le nostre isole del golfo, queste foto diffuse un po' ovunque. È sicuramente motivo di grande orgoglio, quindi è una vittoria meritata, che ci riempie il cuore di gioia, che comunque fa conoscere Procida al mondo intero e ci fa crescere, nonostante siamo così piccoli però ci rende grandi.